Ogni volta che entro in questo stadio non posso che pensare a quest'angolo qua perché era l'angolo che mi facevo assegnare ogni domenica perché quando facevo il raccattavalle a Napoli era il mio posto, il mio punto dove potevo osservare Diego Armando Maradona perché sapevo che lui veniva lì a calciare gli angoli e quindi io dovevo, con la mia macchina fotografica dovevo farti delle fotografie personali e perché sapevo che era il giocatore che ci stava facendo vivere delle cose fantastiche. Questo è lo stadio Diego Armando Maradona oggi, è uno stadio che è l'uomo in più è uno stadio che ti trascina dal primo all'ultimo minuto, è uno stadio che vuole vedere la sua squadra all'ottava e questa è una città che ti entra dentro, una città che ti dà soddisfazioni fantastiche se dà il massimo.